Si è pertinato, Samuela. Samuela Vunisa, esordio dal primo minuto contro la Francia al 6 nazioni. Sei emozionato? Sì, molto. Io ho un'altra opportunità. Questa prima volta a giocare il primo 15 sono molto contento. È una grande esperienza. Tu sei figiano? Facci vedere il tatuaggio. Mostra le telecamere il tatuaggio. Cosa rappresenta? La tua famiglia? Sì, questa è la mia famiglia, per la flore. Questa è la mia nonna, il papà, il mio fratello, la mia mamma e questo è il mio papà. Tutti da qua hanno significato la mia isola, dove siete, da dove vieni. Dove vieni? Dove vieni. Aspetta un spazio da qua, la prendi per l'Italia. Senti, quando sei qui a Raduno, sei sempre al bar con le cuffioni e al telefonino e parli con Skype. Con chi parli? Oh, sì, sì. Io tanto parli con la mia moglie. Come si chiama tua moglie? Vulasi. Vulasi? Vulasi. Salutala in figiano. Sì. Come si dice? Figiano? Non è una lingua? Sì, figiano. Ah, figiano? Sì, figiano. Mi hanno detto che non era figiano. Salutala in figiano. Fammi sentire un pezzo di conversazione. Salute la mia moglie. Ah, io sono in Roma, ho capito tutto. È una lingua semplicissima, devo dire il figiano. In Europa e anche in Francia ci sono, arrivano molti figiani. Quando sono giovani vengono con le under in Europa, giocano e poi magari i club francesi, in questo caso tu, i club italiani, trovano una squadra e rimangono a vivere in Italia. Tu, l'idea tua e di tua moglie è rimanere a vivere in Italia? Sì, tanto figiano gioca in Europa, veramente. Per la Francia tantissimo figiano. Noi, è una relazione per il club. Vengono qua, fidiamo per la scuola in figiano, per la competizione. Per la scuola su loro, tanto figiano per il bambino, vengono in Francia a giocare. Ma se l'anno prossimo andrai a giocare all'estero, come abbiamo capito? Sì, l'anno prossimo la vai con l'Inghilterra, gioco a Sersons. L'Italia rimarrà, cioè rimani a vivere, comunque vuoi vivere in Italia dopo? Sì, come commissione per il nazionale io vengo qua. Diamo l'appuntamento a domenica, ore 16, sei nazioni, per i tuoi connazionali figiani, diciamolo in figiano, guardatemi in tv, il gioco titolare. Parla con noi, figiano? È figiano, sì. Sì, sì. si anima un po' là, mi muove mi va con la forza italiana che hai detto? sa una le scrivo per una storia faremo il boom su tutti i figi figiani grazie